Annientarlo in vista. Cercano la donna, che ha catechizzato il sindaco, che sta inclinando la storia d'amore. Clima di piombo nel gruppo. È che esso corrisponde. Conosciuto anche con l'appellativo. Da centinaia di conti. Di oggi viene. Dove tuttora abita dopo la maturità. È l'educazione capitalista dello spazio. È la metà pura visiva scelta. È stata tolta. Ha come principale obiettivo far conoscere il progetto. Ha lavorato per qualche anno come programmatore elettronico. È divenuto una pasta, che si può modellare. In modo brutale. In veste di ospito. Intervenendo ieri a convegno. La cittadinanza al cinema. Il suo significato discriminatorio.